che bucio de culo ragazzi abbiamo beccato la squadra sicuramente più abbordabile tra tutte quelle che c'erano e c'era solamente una possibilità alla juve non è andata benissimo ma la juventus può permettersi il lusso di giocare anche contro il real madrid contro l'atletico madrid su tutte e due le squadre del madrid quindi porto roma anzi la prima è roma porto perché perché la roma essendo passata da seconda giocherà la prima in casa e poi c'è porto roma la juventus invece giocherà prima madrid contro l'atletico e poi in casa sempre contro l'atletico ciao bella a tutti da me ho appena registrato la mia reazione e questa video reazione non so quando ve la pubblicherò molto probabilmente nel tardo pomeriggio perché prima deve uscire la reazione la live reaction di roma genoa sono ancora abbastanza scosso per la partita di ieri ma concentriamoci rapidamente sulla champions league perché ripeto abbiamo beccato la squadra migliore che potevamo beccare ma ovviamente non dobbiamo sottovalutarla per come è passata prima nel girone per quello che il porto ci può fare visto che io ho iniziato youtube con la mia prima live reaction in assoluto dallo stadio olimpico proprio contro il porto e ci hanno preso a pallettate quindi sbagliatissimo sottovalutare una squadra del genere ma siamo consapevoli che ci poteva andare molto molto peggio per come attualmente è la roma qualsiasi squadra è ostica anche una squadra di serie c8 sarebbe veramente può succedere tutto è capace che beccamo il barcelone ci vincevamo per dire perché siamo matti così come è capace che becchiamo la squadra più abbordabile ci fa il culo a strisce per quanto riguarda la juventus secondo me se la giocano è un avversario particolarmente ostico perché comunque mira a spezzare il gioco dell'avversario si chiude in difesa e quando riparte può essere letale ma la juventus quest'anno c'ha un giocatore da champions league uno dei primi al mondo come cristiano ronaldo che tra l'altro conosce bene la liga conosce bene quel tipo di squadre e ci metterà sicuramente quel qualcosa in più e a livello di esperienza e a livello dei occhi della tigre di cattiveria di personalità di tutto quello che vi pare speriamo bene speriamo bene per entrambe ovviamente io da tifoso della roba mi sa che mi vado a vedere allo stadio anzi no l'ultima volta ci sono andato mi sa che ci vado mi piace commentate condividete iscrivetevi al mio canale qualora non lo avesse ancora fatto sto ancora ripeto sono scioccato ancora per la partita di ieri e quindi sti sorteggi li sto vivendo in una maniera un po diversa dal solito però sono consapevole che abbiamo beccato la più abbordabile tra tutte quelle che c'erano immaginate se beccavamo un barcellona se beccavamo un bayern monaco se beccavamo mamma mia ragazzi miei la champions league il calcio che emozioni che te regala fatemi sapere voi che cosa ne pensate nei commenti se la ruma può passare e se può passare anche la juventus ovviamente ai quarti di finale noi ci proveremo però con le pezze ciao